Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Prato Est, Firenze Ovest e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Firenze Peretola. Guidare con prudenza per la pioggia in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e in FIPILI lungo tutto il percorso. Sulla FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Spostandoci sulla statale 2 via Cassia a senso unico alternato per lavori di ripristino dopo una frana tra i chilometri 150 e 700 e 151 a Radicofani in provincia di Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!